Ciao ragazzi, oggi vi farò vedere i miei livelli in pratica non sono livelli normali qui ragazzi, nei livelli si regala qualcosa allora, questo è il livello che ho per il momento ho il livello 0 però adesso vi faccio vedere tutti i livelli che ho e tutte le sorprese che mi hanno dato ci vediamo con il primo ok ragazzi, questo è il livello 7 non me lo posso far vedere perché è un contenitore livello 7 e adesso vediamo il regalo che c'è ma stiamo scherzando cioè io come ci dovrei per cosa lo dovrei usare è pure durissimo durissimo magari lo uso come dado beh ragazzi, ci vediamo qui ragazzi, siamo in un livello molto alto questo ragazzi, ci siamo spostati dal livello 7 e siamo arrivati al livello 20 20 ragazzi, livello 20 questo sembrerà 80 ma adesso vi faccio vedere cosa mi hanno regalato è bellissimo ragazzi le munizioni pure le ho trovare per strada però ne ho solamente una però è bellissimo ragazzi si può usare anche così, guardate si può usare come una specie di arco X ma vabbè passiamo invece all'ultimo livello quello boss ragazzi questo qua è un livello molto alto ragazzi, questo è l'ultimo livello siamo al livello aspettate che leggo 24 ma ragazzi, ora vi faccio vedere pure questo sembrerà 42 ma ragazzi, è il contrario e ragazzi, siete pronti per vedere aspettate che la vi dico solamente che si può indossare e vi parlo a trovare i nuovi amici a scuola purtroppo non è andata bene